Ciao milanisti, bentornati o benvenuti, questo è il canale di Violeta Milan, io sono Stefano Bressi e buon 2019 a tutti quanti perché il Milan è nell'arco di 48 ore e è tornato indietro di 4 anni perché ha perso Zlatan Ibrahimovic che è arrivato al gennaio 2020 e ha perso Paolo Maldini che aveva iniziato la sua avventura da dirigente prima con Leonardo al Milan ma diciamo che aveva iniziato a essere il vero frontman della dirigenza rossonera proprio nell'estate del 2019 quando poi c'era anche Zvonimir Boban e addirittura poi da solo senza Boban a marzo del 2020 quindi possiamo dire tranquillamente che il Milan sia tornato a quel periodo lì perché la proprietà cardinale ha deciso di licenziare Paolo Maldini e molto probabilmente insieme a lui ovviamente anche a Frederic Massara e quindi il Milan si ritrova orfano dell'uomo che l'ha preso e l'ha riportato ad alti livelli una scelta che a mio modo di vedere è una scelta illogica, ovviamente noi dobbiamo partire da un presupposto che noi non sappiamo adesso cosa succederà, quindi non si può andare a dire che sicuramente il Milan farà male adesso o che sicuramente il Milan farà bene perché ha deciso cardinale di mandare via Maldini e ha cambiato completamente il modo di fare mercato, di gestire soprattutto l'area tecnica però si può commentare la decisione di cardinale di mandare via Maldini cioè possiamo dare la nostra opinione per dire se è una decisione sensata, corretta, logica oppure illogica prima di continuare vi ricordo di lasciare un mi piace a questo video, iscrivervi al canale mi raccomando perché se ancora non siete iscritti per noi è importante, a voi non costa nulla e soprattutto fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate voi, se siete d'accordo con quello che adesso vi dirò e comunque qual è il vostro punto di vista su questa situazione di Paolo Maldini dicevo possiamo dare un commento e a mio avviso, personalissima opinione, ripeto non vado a giudicare quello che potrà succedere da qui in avanti con il Milan o comunque lo farò solo parzialmente dopo però posso dire cosa penso di quello che è stato fatto in questo momento nel mandare via Paolo Maldini per quanto mi riguarda è una scelta illogica nel senso che se si vanno ad analizzare ciò che ha fatto Paolo Maldini non c'è un motivo valido per cui Maldini dovesse essere mandato via, molto semplicemente perché si può anche provare a ragionare, ovviamente il tifoso milanista in questo momento è colpito al cuore il tifoso milanista in questo momento è colpito emotivamente nel dover salutare Paolo Maldini però bisogna anche poi ragionare in maniera fredda e lucida e analizzare senza farsi prendere troppo dall'emozione e allora analizziamo ciò che è stato fatto da Paolo Maldini in questi anni il motivo qual è per cui Paolo Maldini è stato mandato via? L'ultima sessione di mercato? Possiamo anche essere d'accordo, l'ultima sessione di mercato del Milan non è stata soddisfacente non è stata una buona sessione di mercato, non è stata una sessione di mercato che ha portato i rinforzi del salto di qualità che probabilmente serviva al Milan lo scorso anno dopo aver vinto lo scudetto non è stata una sessione di mercato da squadra campione d'Italia possiamo essere d'accordo, decetelare un acquisto sbagliato, un investimento sbagliato possiamo anche essere d'accordo ma attenzione a bollarlo come tale perché poi comunque ci sarà da aspettare come c'è stato da aspettare per Raffaele Aue e come c'è stato da aspettare per Sandro Tonale e tanti altri ma partiamo anche dal presupposto che possa essere un acquisto sbagliato in una sessione di mercato sbagliata ma il lavoro che ha fatto Maldini non inizia l'anno scorso il lavoro che ha fatto Maldini inizia appunto nel 2019 o addirittura nel 2018 tutta la squadra che in questo momento è la formazione titolare del Milan Mignon, a parte Calabria che viene da Vivario, Mignon, Ciao, Tomori, Caluluto, Hernandez, Ben Nasser, Tonali, Krunic Salemakers, Messias, Decetelare, Braim Diaz, Leao, Rebic, Origi, Giroud e Ibrahimovic sono tutti i giocatori presi da Paolo Maldini e sono tutti i giocatori che hanno raddoppiato se non triplicato il loro valore nel corso di questi anni quindi non si può per una sessione sbagliata di mercato andare da Paolo Maldini e dirgli non siamo soddisfatti se è licenziato, secondo me è una decisione prima di ogni logica perché ci sta un errore, nel calcio non funziona in maniera così arida cioè bisogna anche capire che è un percorso, che ci sono delle situazioni che vanno al di là delle scelte che si possono fare degli errori e Paolo Maldini doveva godere di una fiducia legata a quanto fatto negli anni precedenti che è stato un ottimo lavoro, quindi non riesco veramente a capire come sia possibile questa decisione tra l'altro il Milan adesso ha raggiunto quasi la parità di bilancio, probabilmente la raggiungerà nel prossimo bilancio e il budget a disposizione di Paolo Maldini non è mai aumentato, il budget a disposizione è rimasto sempre lo stesso e adesso Maldini giustamente è andato a dire o aumentiamo il budget oppure non ci siamo poi c'erano divergenze, poi sicuramente Maldini è una personalità forte poi sicuramente forse è stato meglio così sotto alcuni aspetti nel senso che comunque ogni volta avere questa tiritera a fine stagione sul futuro di Maldini oppure le frecciatine e sicuramente forse è meglio avere una visione comune, un'unione di intenti totale questo sicuramente, ma non basta a giustificare questo perché a volte bisognerebbe anche mettere da parte le divergenze personali per il bene comune del club che in questo momento sembrava poter essere ancora Paolo Maldini tra l'altro senza dilungarmi troppo c'è anche da dire un'altra cosa ovvero che i giocatori che hanno firmato in questo momento un contratto con il Milan l'hanno firmato grazie anche al progetto Paolo Maldini perché un Teo Hernandez è stato scelto da Maldini, è stato fortemente voluto da Maldini che gli ha detto vieni al Milan che ti rendo il terzino sinistro più forte del mondo puoi diventare il terzino sinistro più forte del mondo e adesso che Maldini va via, Teo Hernandez tutto questo lo vede scomparire Teo Hernandez, milanista quanto volete voi dite ma lo stipendio ai giocatori lo paga il Milan certo, ma uno stipendio ben più alto lo può pagare un qualsiasi altro club ai giocatori non sono milanisti, non sono Paolo Maldini sono dei professionisti, legati sicuramente anche al Milan ma legati altrettanto loro erano a Maldini quello a cui tengo io e che ci tengo a dire è che l'addio di Paolo Maldini Maldini fino a questo momento per i giocatori più che per i tifosi è stato garanzia di un tentativo di successo al di là delle finalità economiche della società Maldini garantiva che al fianco del percorso economico di risanamento del club ci fosse un percorso di crescita sportiva della squadra qualcuno mi potrà dire ma i risultati economici vanno di pari passo con i risultati sportivi vero fino a un certo punto perché i risultati economici che bastano a una proprietà che vuole semplicemente avere una proprietà che vuole avere dei risultati economici positivi sono la qualificazione in Champions League e un percorso dignitoso in Europa cioè quei guadagni che costantemente ogni anno anno dopo anno ti permettono di avere il bilancio a posto vincere se capita ogni tanto sì ma non è l'ossessione Maldini aveva come ossessione la voglia di arrivare a fare il salto di qualità quel salto di qualità che chiedeva la curva quel salto di qualità che avrebbe portato il Milan con pochi tasselli con pochi passi avanti con veramente poca qualità in più a poter competere seriamente e costantemente su più fronti sia in campionato che in Champions League come ha dimostrato quest'anno poi ripeto tante divergenze sicuramente forse sull'allenatore sul modus operandi sui pieni poteri quello che volete ma bisogna tapparsi il naso andare avanti perché Paolo Maldini ha meritato e soprattutto perché Paolo Maldini è una figura nel mondo sia nel mondo esterno al Milan anche nel mondo dentro lo spogliatoio del Milan troppo importante e che adesso può portare dei veri e propri terremoti rossoneri perché tra giocatori che potrebbero avere dei dubbi sulla continuità del progetto e su quello che hanno firmato e tifosi che si sentono abbandonati così abbiamo perso Ibrahimovic abbiamo perso Paolo Maldini nell'arco di 24 ore speriamo che sabato non arrivi il colpo di grazia lasciate un mi piace a questo video se siete d'accordo e se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi seguiteci sul pinetaminan.it e su tutti i nostri profili social un saluto a parte di Stefano Bressi da casa Milan dove stamattina c'è stato Massara ma non Paolo Maldini si attende probabilmente per domani il comunicato ufficiale di Esonero per Maldini e Massara buon 2019 a tutti quanti e sempre e comunque forza Milano